Si è svolta in un animato contraddittorio l'udienza davanti al giudice del Tribunale di Catania Mario Accardo sul ricorso in via cautelare d'urgente presentato dall'IPAB Bonaventura di Giarre che ha conferito l'incarico al legale Giovanni Sciangula per ottenere l'immediato rilascio dei locali del Palazzo di Via Alcide dei Gasperi occupati dalla cooperativa Ambiente Benessere di Mascari. Mario Leotte, il legale nominato dalla cooperativa, si è opposto alla richiesta ritenendo inammissibile la domanda del proponente. Il legale Sciangula ha fondato il ricorso su alcuni aspetti. Intanto nessuna gara d'evidenza pubblica sarebbe stata avviata e i contratti non sarebbero stati regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate. Il contratto di locazione, inoltre, stipulato nel giugno del 2013 tra il precedente commissario straordinario della Bonaventura Maurizio Murabito e la cooperativa, sarebbe inefficace. Le funzioni di Murabito, nominato per sei mesi dall'assessorato regionale della famiglia, erano infatti già scadute. Non così per l'avvocato Leotta, che ha depositato una nota datata 5 febbraio 2013, nella quale l'assessorato regionale della famiglia avrebbe comunicato come da tempo fosse stato richiesto alla regione siciliana l'autorizzazione a svolgere attività socioassistenziali coerenti con le finalità dell'operapia. Non solo, contestata anche la procedura d'urgenza, per il legale Mario Leotta non vi sarebbe infatti, come previsto dal codice, il pericolo né di un pregiudizio imminente né di un danno irreparabile. Tra meno di dieci giorni è attesa la pronuncia.